La pace e l'unione della Repubblica, questo rappresenta il padre del socialismo francese Jean Jaurès, secondo il presidente Hollande, a cui oggi ha reso solennemente omaggio. Il capo dell'Eliseo ha posto una corona di fiori davanti al locale dove Jaurès venne assassinato un secolo fa, alla vigilia della prima guerra mondiale da un fanatico nazionalista.